Io sono pronto, posso fare una parte della canzone? No, no, stai tranquillo, la faccio bene. 29 settembre, Maurizio Mandelli, numero 16. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Ieri, 29 settembre, la Rai. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi ti confiso me, ti sorrisse. E ancora prima di capire, mi trovi a me stretto come se non ci fosse più me. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante e poi ricordava l'azzo. Il buio ci trovò vicini, un rvero c'è che, E quasi così, così così. E sono svegliato e sto pensando a te. Grazie.